Il livello di gioco è da titani nella seconda giornata di questo appuntamento italiano dell'Alps Tour. E' la fiera dei birdie dei grandi patimbucati, anche se non sono mancati i momenti di difficoltà per qualche top player in competizione. Si droppa. Torna a far tremare la classifica internazionale Matt Wallace, che decide di giocare un golf aggressivo, ricco di aste conquistate e solidi tee shot. L'inglese porta a meno 11 la vetta, abituato a farsi inseguire nel giro finale. Fantastici però tutti i nostri italiani, e' un attacco di squadra dei nostri squali azzurri, Enrico Di Nitto, Federico Maccario ed il giovanissimo Michele Ortolani chiudono a meno 8 i primi due round, posizione dalla quale potranno provare il morso finale. Ma e' straordinario il giro in 64 del nostro pugile Corrado De Stefani, 18 buche giocate sempre all'attacco, che hanno restituito lo score della seconda posizione in solitaria. grande Corri, e' stata una giornata divertente e battuta da un solo estivo che ha messo a dura prova il fisico dei giocatori. I 30 gradi di Frassanelle non fermano nessuno e non lo faranno domani, dove si decidera il nuovo re di questo splendido ma impegnativo percorso. noi siamo qua, tra grandi swing, fidanzate felici e un po' di ombra. suing your life suing your life suing your life suing Grazie.